Congratulazioni e di nuovo benvenuti. Vi lascio un microfono. Ovviamente il dibattito è aperto a tutti. Se avete delle domande alzate le mani, se volete chiedere qualcosa arriveremo con un microfono, sperando che la voce si senta. Comincio io. Il film racconta di un regista che ha sempre cercato la scia della rivoluzione, che fosse la rivoluzione musicale con il rock and roll, la rivoluzione generazionale con il 68, la rivoluzione sessuale o alla fine la rivoluzione politica con Cuba. Com'è stato anche per voi seguire questa scia della rivoluzione e anche raccontare il modo in cui il suo cinema ha intercettato la rivoluzione? Quindi che tipo di lavoro avete fatto? Con i testimoni, potremmo dire, e poi sulle immagini. Comincio io? Sì. Ok. È stato un film, un lungo parto, diciamo, più lungo del previsto. Abbiamo cominciato cinque anni fa con la prima intervista a Roberta Mancino, che è qui in sala fra l'altro, che ringraziamo. Please. La skydiver paracadutista. E la cosa bella, come Django racconta, è un film che è cominciato dal finale. Noi abbiamo cominciato il film dall'ultimo film mai realizzato di Piero Vivarelli, che doveva essere il film con Roberta Mancino, che si doveva lanciare nuda dall'aeroplano a Cuba. Quindi sintetizzava un po' tutte le sue passioni. Da lì poi abbiamo fatto altre 36, 37 interviste nell'arco di tanti anni. Abbiamo cominciato a guardare con più attenzione, a sezionare tutti i film di Piero e a scoprire che c'era Piero nei suoi film. Noi non lo sapevamo, sinceramente, li avevamo visti. A volte non sono film bellissimi, ovviamente. Bisogna dirlo, non è che stiamo parlando... Però c'erano sempre delle idee, c'erano sempre delle spinte in avanti, alcuni film migliori di altri. E poi la cosa divertente è che c'era lui. Non solo c'era lui, c'erano le sue mogli. Non solo c'erano le sue mogli, c'erano le sue amanti. L'amante... E quindi poi alla fine ci siamo resi conto che la vita di Piero, i film di Piero, era impossibile separarli e distinguerli l'uno dall'altra. Per cui da qua è venuto ovviamente il titolo, che Gabriele Salvatore Spoi ha confermato. Dice che la vita in effetti non è un e-movie, un film d'autore. Non si sente il dolore ai capelli, come diceva Monica Vitti. Però arriva la polizietta e si porta il tuo figlio perché l'hanno beccato con la roba dentro. Ecco, questo era un po' come siamo arrivati. Sì, esatto. Cioè il titolo del film non è solo un titolo a effetto, ma è veramente il concetto narrativo del film. Per quanto riguarda la rivoluzione, beh... le rivoluzioni Piero ne ha fatte varie. E credo che abbiamo cercato di catturare anche questo nel film. Alla fine, come ha scritto Fabrizio in un testo molto bello, prima che abbiamo cominciato a girare, abbiamo scoperto che forse la rivoluzione più importante è proprio quella dentro di te. e questo l'abbiamo scoperto poi, appunto, cioè ci è stato confermato, diciamo, anche dal lavoro che abbiamo fatto. Piero, effettivamente, rivoluzione è una parola che lo cattura bene e credo che abbiamo cercato di catturarlo anche noi nel film, ecco. Se ci sono domande, ovviamente alzate la mano qui in prima fila. C'è un microfono? Grazie. Salve. Allora, io volevo appunto sapere un po' il percorso produttivo del documentario, come sono entrati magari anche vari partner all'interno, insomma, di questa operazione che mi sembra anche stata lunga e complessa. E poi quale sarà invece il percorso distributivo dopo Venezia? Allora, vado io? Ok, il percorso produttivo del film, intanto vorrei ringraziare la Tea Time, Marco Antonio Borghese, tutto il team Tea Time che è qui. E grazie a Marco Antonio siamo riusciti a cominciare a fare questo film. Dopodiché si è affiancato l'Istituto Lucia, che ovviamente voglio ringraziare anche. E poi, in ultimo, è venuto a bordo anche Wild Side, che ci ha consentito di portare a compimento il film nel modo migliore. Questo, in sintesi, è un po' la struttura produttiva del film. Il film ha avuto una gestazione lunga, ci abbiamo messo credo cinque anni, ha un percorso produttivo abbastanza travagliato. Per quanto riguarda il percorso, adesso quello che succederà, ci sarà una piccola distribuzione theatrical in Italia. E poi il film passerà su SkyArte, non so quando. E per quanto riguarda il resto, vedremo. Intanto lo stiamo lanciando qui al Festival di Venezia, siamo molto contenti, abbiamo un ottimo trampolino di lancio, quindi le prospettive sono buone. Grazie. Mi ricollego a una cosa detta poco fa, che la sua vita era tutta dentro il suo cinema, in qualche modo. Ed era una vita abbastanza folle, avventurosa, che però in qualche modo, e anche i suoi film poi, come racconta il film lo dimostrano, è anche una testimonianza di quanto fosse folle e avventuroso il cinema italiano di quegli anni. Soprattutto il cosiddetto cinema di serie B. Quindi appunto volevo sapere qualcosa da voi sui racconti della produzione, dei racconti bellissimi, ci sono stati... Ecco, io molto volentieri passo il microfono a Fabrizio, che viene da quel mondo, anche come regista. Esatto. Infatti, B-Movie, io vengo da B-Movie e faccio B-Documentaries. B nel senso che bassi budget e la creatività sopperisce alla mancanza di mezzi molte volte. Noi abbiamo cominciato questo film, avete visto riprese, montaggio molto indipendenti, perché ci siamo appassionati, ci piaceva raccontare questa storia a tutti i costi. Oggi, grazie a Dio, i mezzi per raccontare sono più sofisticati e più alla portata di mano, e quindi siamo riusciti ad andare abbastanza avanti, far vedere quello che volevamo fare e trovato delle persone, appunto, che hanno creduto nella storia. Io vengo da horror movies, da thrillers, quindi B-Movie. Il mio primo film è stato prodotto dal mitico Aristide Massaccesi, De Emanuele, tutte quelle serie là, Giott Amato, e quindi conosco molte di queste persone, conosco molto di questi meccanismi del cinema che, diciamo, non c'è più, perché per tanti motivi, l'avvento della serialità, della televisione, eccetera, eccetera, è un cambiamento generazionale di pubblico. Però, ecco, come diceva Umberto Lenzi in questa intervista di ormai tre anni fa, Umberto è scomparso due anni fa, mi sembra, e Umberto diceva facevamo 350 film l'anno negli anni 70, che era la chiave di volta del cinema italiano. Cioè, se paragoniamo, non dica Hollywood, ovviamente Hollywood è Hollywood, però in Europa solo l'Italia faceva 350 film l'anno, che era una forza, era una corazzata che rispondeva al fuoco nemico di Hollywood, nel senso che le sale cinematografiche italiane facevano film italiani, anche quelli americani, però c'erano i film italiani, c'era gente che andava a vedere i film italiani, e questo era, per me, una cosa divertente, gradevole, che comunque ci ha dato modo di arrivare a oggi, continuiamo a fare cinema, siamo qua a Venezia. Tra l'altro, anche appunto, parlava di Hollywood, la storia del cinema ci insegna che B-movie non significava di serie B, come poi l'abbiamo tradotto in italiano, ma significava quello che ha detto lei, piccoli budget da cui poi uscivano grandi maestri, come penso appunto in Italia Mario Bava, o altri che poi sono stati nominati nel film. Domande? Una domanda. Seconda fila. Complimenti, mi è piaciuto molto. Volevo sapere, perché mi sembra che c'è una bellissima ricerca anche a livello della qualità della fotografia, l'immagine, c'è tutto un lavoro grafico e di sensibilità sul colore, ho visto che qualcuno ha seguito, perché immagino montare tanti materiali diversi, deve essere stato un casino terribile. La parola giusta, un casino incredibile. È stato difficilissimo trovare le copie migliori, alcune non sono le migliori, purtroppo andrebbero ristampate dai negativi, ma una spesa esorbitante. Sì, Luca Tommasini che qui in sala ci ha coadiuvato moltissimo da questo punto di vista per la manipolazione digitale, poi abbiamo avuto un grandissimo colorist che ha messo a posto le cose, insomma sì, abbiamo cercato di dargli una qualità il più alta possibile, perché ovviamente bisogna goderselo al meglio questo film, ma c'è roba bianco e nero vecchissima regata, roba colori di grande qualità, forse la qualità più alta è quella del dio serpente nel film. Allora, io invece volevo chiedervi una cosa riguardo al rapporto umano che viene fuori dal film, il ritratto di Piero Vivarelli, ma soprattutto la forza con cui avete raccontato la famiglia barra le famiglie, cioè tutti i rapporti umani. Come è stato interagire con le persone che hanno conosciuto e che hanno vissuto così profondamente Piero Vivarelli? Beh, per me, essendo che Piero era mio zio, è stata un'opportunità per scoprire appunto questo personaggio che ho conosciuto come non è stato un padre tradizionale, non è stato neanche uno zio tradizionale, però soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita ci eravamo molto avvicinati e mi ha dato la possibilità appunto di scavare, di capire meglio e avevo anche appunto la possibilità di contattare persone come Oliviero, insomma tante persone vicine e di dare al film un coté personale, un coté che credo sia importante narrativamente in questo film. cioè il film è incentrato, cioè all'ossatura dei film di Piero e della interconnessione tra i suoi film e la sua vita e poi a un certo punto va sul personale. Abbiamo potuto fare questo grazie al fatto fondamentalmente che era mio zio e che io avevo l'interesse di entrare dentro a questo aspetto della storia. Abbiamo tempo per un'ultima domanda? se c'è, no, ah lì, seconda fila. Sì, complimenti, mi è piaciuto moltissimo. E nella parte che stavate appunto dicendo del personaggio traspare un entusiasmo, io dovessi descrivere questo film in una sola parola direi entusiasmo e quindi anche nella realizzazione vedo questo entusiasmo. Come lei diceva è stata forse anche una scoperta per voi, avete ricostruito la figura lei dello zio, il figlio probabilmente del padre a posteriori meglio di quanto non lo fosse stato durante. Sì, esatto, io la mia parte l'ho già detta, adesso do il microfono a Fabrizio. Mi diverte l'idea dell'entusiasmo perché praticamente montando il film ogni tanto incappavamo, o eravamo separati, io stavo a Londra, lui stava a Roma, poi ci vedevamo un po' a Londra, un po' a Roma, incappavamo in un'immagine e dicevo scusa Nick ma questa persona qua non è quella, ma questa è quella di quel film così. Quindi ricostruivamo delle cose e la cosa più eclatante devo dire, segno proprio della mia d'abbenaggine, quando ho cominciato a sezionare Rita la figlia americana, a un certo punto ho incrociato questo personaggio che balla, questa ragazza, e sbagliandomi completamente pensavo fosse Beryl Cunningham da giovane e quindi ho fatto circolare la foto chiedendo ma quella è Beryl, è la moglie, abbiamo la moglie pure nel film. Invece poi, grazie a Oliviero, il figlio ha detto ma no, questo non è, è Veronique. E così abbiamo ricostruito Veronique di cui non sapevamo molto e poi Veronique è stata molto carina con noi e ci ha raccontato della sua vita con Piero e della sua vita lontana da Piero. Quindi è stato questo, l'entusiasmo era proprio nello scoprire ogni volta, diciamo ma qua c'è Piero che fa questo e mangia la trota nel film Satani che poi racconta che è andata a portare la conocca a mangiare le trote e l'ha messo nel film. Quindi quello era, l'entusiasmo c'era perché c'era una continua scoperta, non è che adesso adesso parliamo di questo film, questo film è stato fatto così e cosa, no, era sempre ma chi ci si nasconde dentro, era come quei calendari di dicembre che ogni finestrella si apre e si vede dentro qual è la cosa e poi è Natale. Ecco, questo è Natale per noi. Allora, prima di salutarvi se c'è qualche ringraziamento che volete fare in particolare, questo è il momento. Sì, vogliamo ringraziare, abbiamo già ringraziato, vogliamo ringraziare Roberto Mancino di essere qua, Oliviero Vivarelli, voglio ringraziare mia moglie e mia figlia che mi hanno supportato in questa avventura. Allora, se vi interessa continuare a parlare di cinema di serie B o vi do appuntamento, se vi va, domani alla stessa ora sempre in questa sala perché ci sarà un documentario di Stefano della Casa su il gotico italiano degli anni Sessanta. Ringrazio Nicolò Vivarelli e Fabrizio Laurenti, complimenti. Grazie, grazie. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima.